Il nome dei pappagalli Il nome dei pappagalli Forse qualcosa di più ma il censimento non è completo però non siamo distanti da quelle cifre Una stima fatta qualche anno fa dei piccioni era largamente superiore alle 5-6 mila unità Quindi semmai il problema era un altro Sono i piccioni che sono diffusi Poi se possono non stanno vicino all'uomo Sono ancora abbastanza salivatici Uno di questi deve stare attento alle dita Non perché siano aggressivi Se le va per la strada il pappagallo le mangia la punta del naso No Però Visto come sono armati Perché a loro mancano le mani Cercare di prendere un animale vivo È una cosa da fare solo se si sa come fare Per evitare problemi a lui E per evitare problemi a noi Per le ragazze Si Having a pretty num nums?